Gli spettatori non si rendono mai conto. Sono un'infinità i mestieri che servono per costruire un film. L'età dell'innocenza, Michelle Pfeiffer. Per gli Oscar. Sì, questo sì, per gli Oscar, Oscar, Oscar. Ci abbiamo circa 300 teste. L'uole ha fatto il calco in testa per fargli le perrucche. Questa è la testa della Lorenz. E questo non è fatto col compiuto, ma fatto a mano. È un lavoro assolutamente da fare con le mani.